la bianca Non è un delitto però io non posso portare non posso portare a compimento questo salvataggio perché la legge dice che io porto soccorso a degli immigrati e così ho aiutato l'immigrazione di queste persone a venire in Italia. Mi sembra una di quelle assurdità allucinanti. Mi auguro, come dice il nostro Presidente della Camera Boldrini, che verrà immediatamente fermata questa legge modificata. Io me lo auguro. Questa è una legge di mare che tu immediatamente come trovi una persona che ha bisogno la devi soccorrere, ma come puoi girare la testa dall'altra parte e vedi una persona che ha bisogno? Ma loro lo fanno di continuo questo. È inammissibile una cosa del genere. È impensabile che una persona, un pescatore di Lampedusa faccia finta di niente. E questo l'hanno dichiarato in questi giorni che hanno visto bruciare la barca e non hanno segnalato. Dimostratelo con le carte, dimostratelo con la verità, non solo con le parole.